A due passi dalla stazione Termini c'è un piccolo paradiso di tranquillità e di bellezza. È la sede storica del Museo Nazionale Romano. È un esempio straordinario di stratificazione storica in piena città. Si vedono le Terme di Diocleziano, poi i due chiostri della Certosa Rinascimentale e anche il Museo Nazionale Romano che è stato fondato nel 1889 per raccogliere tutti i reperti che provenivano dagli scavi della grande città di Roma. Le Terme di Diocleziano Le Terme di Diocleziano sono un complesso monumentale e storico davvero unico al mondo. Furono costruiti in appena otto anni, tra il 298 e il 306 d.C., su iniziativa dell'imperatore Massimiano, che le volle dedicare al suo correggente Domiziano. Furono l'ultimo atto di propaganda imperiale. Avevano un'estensione di circa 13 ettari, le più grandi terme romane dell'antichità, e si estendevano sui colli del Quirinale e del Viminale. Le Terme di Diocleziano prevedevano un tipico schema architettonico usuale nelle Terme romane, con un asse centrale attorno a cui si sviluppavano gli ambienti propriamente termali, a partire dal calidarium, la stanza dedicata ai bagni caldi, poi quelli tiepidi, il tepidarium, fino a raggiungere al frigidarium, la stanza dedicata ai bagni freddi. Completava, questa meravigliosa struttura, un'imponente piscina denominata Natazio, che aveva le dimensioni di circa 4.000 m2, ossia più o meno quelle che attualmente sono oggi due piscine olimpioniche. La Natazio aveva una spettacolare quinta architettonica, organizzata con nicchie rettangolari e circolari, che si disponevano su diversi livelli. Oggi possiamo ammirare, per quanto riguarda le grandi aule ancora in piedi, l'aula decima, che era un vestibolo monumentale al percorso termale, in cui oggi sono allestiti alcuni complessi monumentali rinvenuti nel corso del 1900 o della fine dell'Ottocento, durante la costruzione di Roma Capitale. L'aula ottava è l'unica aula in cui sono stati riportati quelli che sono i pochi resti della decorazione architettonica originaria delle terme, che nel corso del tempo sono state private e spoliate di questi meravigliosi marmi per essere riempiegati o come materiali da costruzione per monumenti vicini, tra cui appunto la Certosa, o per produrre ricotti e per produrre calce. Le terme di Diocleziano rimasero in uso fino al VI secolo d.C., quando nel corso della guerra greco-gotica gli avversari di Roma decisero di tagliare i rifornimenti idrici mettendo fuori uso gli acquedotti. Quindi da allora le terme non poterono più essere sfruttate e utilizzate e incominciò un lungo periodo di declino e di oblio. Nell'estate del 1561, dopo più di mille anni dall'abbandono, Papa Pio IV, con bolla papale, dispone la trasformazione di parte dell'Etermito di Diocleziano in chiesta di Santa Maria degli Angeli e contestualmente dispone la creazione di un monastero e affida tale onere anche finanziario ai certosini di Santa Croce in Gerusalemme. Coinvolto nel progetto generale è il genio di Michelangelo. Michelangelo sicuramente interviene nella Chiesa e molto probabilmente disegna l'impostazione generale della Certosa. Ci troviamo in uno dei più spettacolari e grandiosi chiostri esistenti, è un chiostro che si estende per 100 metri di lato che comprende 100 colonne monolitiche in travertino ripartite in 25 campate per lato e coperte da una volta a botte lunettata. Contestualmente viene realizzato anche il chiostro minore seguendo la regola dell'ordine dei certosini per quanto riguarda l'impianto planimetrico di una certosa. questo spettacolare ambiente inizia a essere realizzato nel 1565 quindi un anno dopo la morte di Michelangelo a un andamento di cantiere veramente che si protrae per dei secoli. Vide la sua definizione ultima alla fine del Seicento con la realizzazione del piano attico e da riportare dal fine del Seicento anche la realizzazione della fontana centrale in seguito arredata con delle teste giganti di animali che furono rinvenute da pochi passi dall'abitazione di Michelangelo. Già nel 1702 Clemente undicesimo organizza una mostra e nel 1867 Pio IX occupa il chiostro per un'ulteriore esposizione di tele antiche. nel 1872 il chiostro viene interessato dal trasferimento di molte opere di molti rinvenimenti archeologici quindi si può affermare che il chiostro di Michelangelo praticamente precede di quasi due secoli la costituzione del Museo Nazionale Romano come vocazione espositiva. Il Museo della Comunicazione Scritta dei Romani alle terme di Diocleziano è uno dei più importanti musei dedicati alle iscrizioni con un patrimonio di oltre 20.000 reperti prevalentemente su pietra ma anche su bronzo, su terracotta, su vetro e su vari altri materiali. Un museo come questo è un museo particolarmente prezioso perché ci consente di esplorare attraverso la voce diretta degli antichi l'evolversi della società a partire dalle età più antiche la nascita dell'impero, l'evolversi dell'impero e nello stesso tempo lo strutturarsi della società con l'arrivo degli schiavi l'emergere della nuova figura sociale dei liberti, cioè gli schiavi liberati. Allo stesso modo vediamo la nascita dell'impero l'evolversi della figura dell'imperatore e accanto a lui l'evolversi della macchina governativa di Roma con i diversi senatori che collaborano alla macchina di questo governo e ancora troviamo fra queste testimonianze alcuni tra i più importanti documenti del mondo antico come il carme dei fratelli Arvali che è una delle prime testimonianze della lingua latina e soprattutto la grande iscrizione che l'imperatore Massimiano fece redigere nel momento in cui creò il più grande complesso termale di Roma le terme di Diocleziano dedicandole al suo collega di regno Diocleziano. Tra le pieghe delle parole incontriamo anche sentimenti umani come la tenerezza di un figlio che decide di ricordare il proprio padre con il suo nome completo e anche con il soprannome con cui quest'uomo era noto mus, topo e aggiunge il dettaglio della raffigurazione del topo tutti questi dettagli, questi elementi ci permettono in qualche modo quindi di avvicinarci all'antichità, a queste persone come se fossero vive e rompono la barriera del tempo dandoci la possibilità di comunicare con loro e in qualche maniera di emozionarci. Le terme di Diocleziano ospitano inoltre il museo di protostoria dei popoli latini un museo che racconta in qualche modo la storia di Roma prima di Roma dall'undicesimo secolo avanti Cristo fino al sesto secolo avanti Cristo. Nel museo sono ricostruiti interi contesti funerari con il corredo costituito molto spesso da elementi particolarmente preziosi che avevano accompagnato la vita dei defunti. Nel museo inoltre è conservato uno dei più antichi documenti iscritti in lingua greca noti fino ad oggi, il piccolo vaso da Osteria dell'Osa datato addirittura al IX secolo avanti Cristo. Dietro al museo che si vede oggi c'è un altro museo nascosto nei depositi che sono grandi aule delle terme di Diocleziano piene di capolavori, capolavori della scultura antica, sarcofagi, iscrizioni, mosaici, affreschi. Questo patrimonio enorme racconta una storia di Roma che è più ricca ancora di quella che si vede nelle sale del museo. Il progetto del Museo Nazionale Romano è quello di aprire al pubblico queste grandi aule. Grandi aule che tra l'altro hanno un'importanza storica particolare perché qua è stata fatta la mostra sulla Romanità organizzata da Rodolfo Lanciani nel 1911 per ricordare il cinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. E quindi oggi dobbiamo assolutamente riaprire queste aule che hanno questa importanza storica e questo patrimonio eccezionale che contengono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo al Museo Giovanni Barracco di scultura antica a Roma ed è grazie al Barone Barracco se possiamo avere una collezione così importante a due passi da Piazza Navola. Chi era Giovanni Barracco? Era un senatore del Regno Unito d'Italia che ha collezionato copolavori d'arte antica del periodo Egizio, Assiro, Etrusco, Cipriota, Greco e Romano. Grazie a tutti. Alla fine dell'Ottocento Barracco pensa non solo a raccogliere una collezione privata di pezzi straordinari da ogni parte del Mediterraneo, ma pensa proprio ad un museo, pensa a regalare un museo alla città di Roma. E per lui un museo era qualcosa di più che un schieramento di statue uno appresso all'altro, seppure con criterio archeologico. Era un edificio accogliente che egli avrebbe offerto ai romani. In questo edificio una parte molto importante aveva anche la biblioteca. Ci sono opere all'interno della biblioteca Barracco che oggi non solo hanno un valore materiale, ma hanno un valore storico documentario molto grande, perché testimoniano della prima conoscenza che dell'Egittologia si fece in Europa. Ad esempio l'opera I Monumenti dell'Egitto e della Danubia, che fu tirata allora in 110 copie, e oggi il Museo Barracco ne ha una delle meglio conservate, messa insieme da Champollion, il grande scopritore della scrittura geologifica, e Rosellini, meno noto di Champollion italiano, che pure fece la prima spedizione europea in Egitto, che era una spedizione italo-francese. Il museo è molto ricco di reperti archeologici, ma soprattutto di pezzi egiziani, perché Barracco sentiva molto vicino a sé soprattutto il mondo egizio. I reperti egizi sono qui veramente unici. Questo rilievo è uno dei primi storici e proviene dalla città antica di Nimrud, Assira, Tuale Calcu, è del re Assurnasir Pal II, e ci racconta l'espandersi del regno Assiro proprio attraverso una serie di conquiste che condurranno poi al Grande Impero. Rappresenta un genio, probabilmente con l'effigie del sovrano, e la capigliatura allude all'Oceano Primordiale. È in atto di benedire all'aspersorio e questo significa che è una protezione per il suo popolo. È alato e questa immagine sarà quella che poi troveremo a Roma nel Genio dell'Imperatore. Anche questa è una figura collegata alla protezione. È Bess, un idolo fenicio, nasce probabilmente nel terzo millennio e poi si trova in tutte le civiltà successive. È accovacciato e sembra mettere paura con la linguaccia, un po' come la gorgone, quella che era sulle armature. Ed è importante questo suo atteggiamento perché garantisce comunque contro il malocchio e contro una serie di mali. Chissà se Barracco non avesse in mente anche questo quando dormiva contornato da tutti questi importanti reperti archeologici in un piccolo letto nella sua casa. Durante la sua vita da collezionista, Barracco fece la conoscenza di un altro grande intenditore di molto più giovane di lui, 40 anni più giovane, preghese, che pure lui si trovava a Roma proprio per fare commercio di opere d'arte. Si chiamava Ludwig Pollack e gli rimarrà accanto per tutta la vita perché tra loro si sviluppò non solo una forte sintonia diciamo disciplinare ma una grande amicizia che da parte del Pollack fu quasi filiale e da parte del Barracco quasi paterna. Insieme riuscirono a portare in questo piccolo grande museo romano delle opere che altrimenti sarebbero finite nelle mani dei grandi collezionisti di quelli che veramente possedevano fondi limitati che erano collezionisti americani. Collaborarono scientificamente e dalla loro collaborazione nacque il primo catalogo in italiano di questo museo, una piccola guida portatile di concezione assolutamente moderna. Visitare questo museo significa recuperare una parte di noi, il nostro passato, perché il passato fa parte del nostro presente e questa collezione è stata messa insieme sapientemente perché potesse essere un esempio di come procedono le civiltà che partecipano della nostra formazione. Infatti tutte le immagini non sono casuali ma si misurano con tutte quelle che sono ospitate nei principali musei del mondo. La cultura si arricchisce attraverso l'emozione, come diceva Jung, e i ragazzi devono entrare nel museo e guardare. Questo è un luogo di bellezza dove ciò è possibile. Grazie alla mediazione di Pollack entrano nella collezione di Giovanni Barracco anche molti importantissimi, notevolissimi pezzi, soprattutto anche opere meno ricercate all'epoca invece che oggi mostrano tutto il loro valore e modernità come ad esempio i rilievi di Palmira. Ce ne sono al Museo Barracco tre per fare una proporzione, sette sono in Vaticano. In questo piccolo grande museo le ha acquisite per primo grazie proprio alla sagacia di Pollack. Questa collaborazione finisce nel 1914 quando Barracco muore e si preoccupa di lasciare il museo in buone mani. E chiaramente pensa l'amico della sua vita, il suo grande collaboratore a Pollack che è insieme al fratello di Barracco vicino al letto di morte di Giovanni Barracco. Pollack accetta su richiesta di Barracco di diventare direttore di questo museo e da quel momento sarà un po' meno commerciante d'arte e un po' più direttore. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!